SIGLA Posso essere franco con te? Certo. Tu sei una vera disgrazia per la famiglia. I tuoi affari sono un disastro. Ti sei soldi non sono qui per venerdì. Farò chiudere il vostro stupido negozio. Non ti sei sposato e fai sesso qua e là da quando hai scoperto il tuo pisello. Io sono pronto a pagare tutti i tuoi debiti. Ovviamente io voglio qualcosa in cambio. Che cosa? Che tu vada all'estero per andare a vivere in Nuova Scozia. Cos'è? Uno scherzo? Ciao, sono Cecilia. Conosco tuo zio. Mi ha detto che forse arrivavi. Allora dovresti mettere un annuncio sul settimanale di Lunenburg. Sì, cioè questo mi aiuterebbe un po'. Mi servono soldi. Cosa vorresti scrivere? Il guaritore aggiusta qualsiasi apparecchio elettrico sia rotto. Che ci fate voi qui? L'annuncio che ha messo. Il guaritore. Ho l'artrite. La mia glicemia è fuori controllo. E io sono una fabbrica di calcoli renali. Penso ci sia stato un equivoco. Io riparò apparecchi elettrici. Lo dice l'annuncio? Il guaritore è giusto chiunque. E beh, non è... Io non avevo detto questo. Siamo qui perché nostra figlia è molto malata. Non posso aiutare vostra figlia. I medici dicono che non c'è cura. Ciao. Io non sono un guaritore. Non esistono guaritori, Alec. È il mio regalo per loro. Alec ci ha ripensato. Proverà a curarmi. Cosa? Oh mio Dio. Come osa venire in una pacifica comunità a truffare la gente? Di che cosa sta parlando? Oh, merda. Aiuto! Aiuto! Io credo che tu abbia un dono per darmi una seconda chance. Lei è completamente falsa. Cos'è questo posto? Chi è questa gente? Quelli sono i tuoi antenati. Benvenuto in famiglia, Alec. Tu hai il dono di famiglia, il dono della guarigione. Che ti piaccia o no, sei stato scelto. No, non lo voglio. Potresti aiutare tantissime persone. Non ne voglio sapere niente. La gente di questa città sta cercando vedere i miracoli dove non ce ne sono. Non voglio che lei muoia. Hai fatto la tua scelta. Quindi lo rivolgo. Chi è che devo convincere? Proprio colui in cui tu non credi. Come faccio a parlare con lui? Sì. Il tuo capo, lui. Basta parlare. Alec e Cecilia, vivete per me ogni giorno. Come se fosse l'ultimo. Non c'è alcun dubbio. Tu sei un guaritore.